Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILE dove ci sono 3 km di coda per un mezzo pesante in avaria al km 18 adesso rimosso tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Coda e a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze e tra Firenze Scandicci e la Strassigna in direzione Livorno. Coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In A1 coda per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Incisa Leggerlo in direzione Roma, sempre verso Roma rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano Sesto Fiorentino. In A11 coda e a tratti per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Per la viabilità cittadina a Firenze per i lavori alla linea 2 della tramvia fino a martedì 30 restringimenti di carreggiata in viale Guidoni da viale degli astronauti all'intersezione con viale 11 agosto. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!